La SSC Paris schiera in campo Con il numero 1 Gigi Frattali Con il numero 3 Marco Berrotta Con il numero 4 Filippo Costa Con il numero 6 il capitano Valerio Di Cesare Con il numero 7 Mirko Andenucci Con il numero 13 Alessio Sapione Con il numero 14 Di Opinius Aua Con il numero 18 Thomas Rubisch Con il numero 19 Franco Berrari Con il numero 21 Raffaele Bianco Danilo Con il numero 29 Manuel Stavone A disposizione Marbella Esposito Amlili Simeri Floriano Meglia Corsine Dursi Schiamone Cascione Ferra Sterrani Allenatore Giovanni Cornacchini Arbitrano Luca